aiuta! qualcuno mi aiuti! vi prego, vi prego, aiutatemi! qui, Ray! papà, ti prego, aiutati! flake, stai bene? è stato un terremoto! non so dove sia Daniel! sono incastrato in una macchina nel garage! è buio qui! ho paura, papà! amore, sei ferita? no, no, papà! flake, non si sente più! che è? che è successo? maledizione! i cellulari sono andati! e le squadre di soccorso non si metteranno certo a scavare per raggiungere un garage adesso! c'è fin troppa gente da aiutare ai piani alti! vabbè, cosa facciamo? andiamo da nostra figlia! ciao a tutti! ciao a tutti! Grazie.